Amici del grande calcio bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazaku e io sono Tatsuna Oh amico mio facciamo questa prepartita di Napoli Salernitana, la prossima partita che ci aspetta Prima però vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che carichiamo Se volete seguiteci su Instagram Senza Giri di Parole e condividete questo video con qualche vostro amico appassionato di calcio Ci aiutate a crescere come canale, Tatsuna che partita ti aspetti? Ragazzi io non posso nascondere una certa positività per questa partita No vabbè ma non esageriamo, non ci inventiamo cose che non ci stanno Abbiamo vincito all'andata, a Salerno 2-0, certo sì, con il dirà Spadone e Delma, Tatsuna se ne aiuta, l'altro ha smesso di segnare Però la cosa positiva è che questi rimangono la 53esima squadra della classifica perpetua della Serie A E quindi io non sono preoccupato, lo dico adesso non sono preoccupato Anche perché tra poco abbiamo la Supercoppa e ci dobbiamo presentare in condizioni dignitose Quindi questa partita è difficile che si sbagli Io non penso che il Napoli sbaglierà proprio questa partita E vabbè Mi giochi il tutto per tutto, me lo fotto Definisci dignitose Vincere senza subire gol Ah, ok Ve lo dico già da adesso Ok, ok, ok Allora, parlando Io ho parlato serie, io lo penso davvero Eh, lo so, ho capito Parlando seriamente Inzaghi non ha portato quello che diceva Che avrebbe portato No, ma anche vabbè, ma azzarri Io non c'è mai creduto Però invece inzaghi ci hanno creduto in molti Invece la Sanitana è sempre quella squadra che si basa quasi completamente sull'aspetto caratteriale Infatti è così che ha reagguantato la partita Abbiamo agguantato È così che stava tenendo botta con il Milan Per il resto è una squadra che va molto in difficoltà Quando tu la superi dal punto di vista tecnico Se tu riesci, come ha fatto l'Atalanta A metterli in difficoltà Che loro si erano portati in vantaggio a Bergamo Perché tecnicamente se è superiore Loro soffrono parecchio Perché non è che possono compensare 90 minuti con la sola garra Ma a noi è vero che la garra manca Però, voglio dire, biazzare Ormai il fondo l'abbiamo toccato, no? Vabbè, andiamo alle formazioni Allora, probabili formazioni Gollini in porta Rachmani, Juan Jesus Perché non ci sono altri difensori Di Lorenzo, Mario Lui Perché non ci sono altri terzini Perché avevamo comprato uno nuovo Ma mazzocchi ha pensato subito di toglie Lobot, Kazinischi e Kaiuste Perché poi abbiamo soltanto Gaetano come alternativa E a meno che non vuole far partire Gaetano Al posto di Kaiuste o di Zieninski Credo che sarà questa la fa Il centro-ga E l'attacco Qua era Raspadori-Politano A meno che non vuole far partire Simeone Sì Io ti dico la stessa Nutro una flebile speranza Che possa pensare a fare il 3-4-3 Magari perché così Gioca a uomo Perché La salernitana verrà sicuramente Col 3-4-2-1 Sicuro Quindi magari Si decide a giocare a uomo Non credo proprio Guarda Mi inchino a Mazzarri Se hai il coraggio di fare una cosa del genere Ma non credo proprio Non credo proprio No, pure io purtroppo non credo Però comunque Mazzarri è arrivato a quel punto In cui qualcosina deve provare a fare Non dico che lo faccia Però dico Lui è arrivato al punto in cui non può Non può più sbagliare Il credito è finito Già è grave che un credito lo avesse Però quel credito ormai è finito Credo che se Non azzecca neanche la partita con la salernitana E' veramente nutta e fonda per lui Non che adesso sia Alba Perfetto E per quanto riguarda La partita che mi aspetto io Ragazzi La solita partita che guardiamo tutte le domeniche Tutti i sabati Tutti i mercoledì Tutti i giovedì Quindi La solita partita con il Napoli Che attacca Se segniamo Può essere che ce la portiamo a casa Se non segniamo Segneranno loro Questo è proprio Ormai di giro Mi scoccia anche di Analizzare l'avversario Analizzare la nostra situazione Perché è effettivamente così Cioè si può semplicemente Sintetizzare il tutto In se I vari Zielinski Quara Raspadori Ipolitano E Cajuste Non ci metto anche gli altri Perché Ah vabbè Nominiamo Di Lorenzo Ma gli altri Non segneranno mai Se questi Riescono a centrare la porta Almeno una volta In questa partita Forse ce la portiamo a casa Se Anche in questa partita Non riescono nemmeno A Prenderla la porta In sette metri di porta A un metro Nemmeno con le mani Riescono a buttarla dentro Allora probabilmente O pareggiamo O vince la Salernitana Perché Ci sarà il solito Secondo tempo Dove Sale pure Gollini In attacco Pur di fare il gol Del vantaggio E quindi Pure un bambino Una squadra di Di bambini Segnerebbe in contropiede Contro una squadra Missa così In modo così Offensivo Nel secondo tempo Quando stanno pure stanchi Eh Io ti dico Io rispetto Della Salernitana Come squadra Perché secondo me Hanno delle individualità Talvolta pure ottime Cioè ti posso citare Castano Ti posso citare Cabraso Giocatori che a me piacciono Pirolan Parlamo però Però Come squadra È piena di problemi E Inzaghi Non mette in campo Una tattica Non impica Una tattica Molto sofisticata Quindi Le debolezze Della Salernitana Sono veramente tante Cioè per esempio La Salernitana Un pari d'anni fa Era almeno forte Nei duelli aerei Invece Cioè ma c'è una percentuale Che fa ridere È una squadra Che ha difficoltà A difendere sulle fasce Difendere Per le vie centrali Non è brava A praticare il fuorigioco Anzi ha preso molti gol Con questi passaggi filtranti Alle spalle dei difensori Non è brava A mantenere la palla Gioca aggressiva Ma non c'è una buona percentuale Di recuperi alti È una squadra Che pure sui calci piazzati Subisce un sacco di gol Cioè sta rovinata Questa cosa vuol dire Vuol dire che Io veramente mi devo aspettare Che il Napoli Decida di fare una partita In cui nessuna Di queste debolezze Riusciamo a sfruttarla Per fare proprio Schifo 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 Quindi Il mio positivismo Arriva proprio dal fatto Che Non è la Salernitana Essere scarsa Perché la Salernitana Ti ripeto Cioè ha ottimi giocatori Ma ha tanti problemi strutturali Che il suo allenatore Non è capace O almeno finora Non è stato capace Di compensare E il Napoli invece Ha tanti presupposti Che la possono portare A sfruttare queste cose Tipo Il fatto che loro Non riescano ad evitare Il fuorigioco Per una squadra come noi E 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 Quattro Come te l'ha fatto Il Frosinone Questo è naturale Però Sì Se devo dirti Proprio come la penso Per me Dobbiamo veramente Veramente Raggiungere un fondo Incredibile Per perderla male Questa partita Ma proprio per questo motivo Ormai Non riesco neanche più A pensare Ai punti deboli Dell'avversario Perché Alla fine Pure una squadra In forma come il Torino Tu le due occasioni Le hai avute Il problema è che Non hai segnato Quindi La Salernitana Magari ci concederà 18 occasioni Ma se tu Non c'entri la porta Puoi avere Tutte le Puoi sfruttare Tutti i punti Deboli Della Salernitana Ma se non segni Non segni Mi dispiace Purtroppo è così Chi lo sa Chi impiegheranno Al posto di Mazzocchi Che ci farà male Ma chi lo sa Ma dobbiamo Ma secondo te Sai in cosa Dobbiamo sperare Che Magari Uno non si aspetta Nell'autogol Della Salernitana Allora può essere Che vinciamo In scioltizia Effettivamente Sai che ne vittano Perché Ieri fece l'autogol Per la Salernitana Una volta Non mi ricordo più Comunque capitò Capitò Non mi ricordo Non mi ricordo Ma vabbè Risultato esatto 2-0 Come il Napoli Come all'andata Facciamo Gol di Raspadori Come all'andata E al posto di Elmas Stavolta Segna Lindström Guarda Voglio fare Voglio proprio Una giornata Incredibile Per il Napoli E poi troviamo Pure 100 euro A terra In salone A casa Il giudice Dunque Il giocatore Via da velo Ti riporto Non faccio Che dobbiamo fare Abbiamo A 47 Perché poverina Un milione Fa la fama Vogliamo Rinnovo Vabbè Viene da piangere Facciamo 0-0 Non segnerà Nessuno Io Mi 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 lancio Dal balcone Questa è un'altra Pronostica Fa parte 0-0 Con noi Che abbiamo preso Pari Traversi Abbiamo tirato Oppure 0-0 Proprio 0-0 0-0 Scialbo Magari Due occasioni Due o tre gol Mangiati E finisce Così Un proseguimento Dell'attuale Però Un miglioramento Rispetto alle ultime Partite Se possiamo Guardare Il bicchiere Mezzo Vabbè Guardatevi Questo video Perché è una Delle poche Situazioni In cui Io sono Molto più Positivo Di Biazzaro Incredibile Vabbè Ma quando giochi Con la 53 La squadra Classifica Il paio della Serie Devi per forza Pensare Positive Se vince La Salernitana Sapete Con chi Ve la Dovete Prendere Perfetto Forza Napoli Sembra Ah no Aspetta Se sei arrivato A questo punto Del video Devi scrivere Nei commenti 53 53 E condividi Il video Adesso Con i Salernitani Con i tifosi Della Salernitana Bra Forza Napoli Sempre Grazie